È possibile costruire la cultura dell'incontro in un mondo di pace dove credenti di religioni diverse, conservando la loro identità, possono convivere in armonia e nel reciproco rispetto. Lo ha detto Papa Francesco lunedì pomeriggio, ricevendo i partecipanti della partita interreligiosa per la pace della sera allo Stadio Olimpico di Roma. Il Papa ha sottolineato che il calcio è uno sport con la capacità di allargare gli orizzonti e costruire fraternità e amicizia. In questa occasione così singolare e significativa ha detto qual è la gara calcistica di questa sera, desidero consegnare a voi tutti questo messaggio. Allargate i vostri cuori da fratelli a fratelli. Questo è uno dei segreti della vita e anche la dimensione più profonda e autentica dello sport.